ciao a tutti ecco un altro video per vedere come ottenere i modi con le scale pentatoniche oggi guardiamo il modo frigio come sapete il terzo grado di una scala maggiore è una scala frigia in questo caso mi se siamo in do oggi gli esempi li faremo su re minore quindi per ottenere un frigio io armonicamente posso usare re minore 7 e mi bemolle settima maggiore quindi la base che vi faccio è re minore 7 e mi bemolle settima maggiore in questo caso utilizzo la pentatonica un tono sotto l'accordo su re minore 7 utilizzo la pentatonica di do minore otteniamo così do che è la settima minore mi bemolle che è la nona bemolle la seconda minore fa che è la terza minore sol che è l'undicesima e si bemolle che è la tredicesima bemolle vi faccio sentire grazie a tutti 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 Posso anche combinare le due pentatoniche, quella di la pentatonica minore di Do e la pentatonica minore di Re, eventualmente se qualcuno di voi è più avvezzo alle pentatoniche maggiori, si potrebbe fare questa cosa, visto che Re minore è il terzo grado di Si bemolle maggiore, io posso usare la pentatonica maggiore di Si bemolle, la pentatonica maggiore di Mi bemolle e la pentatonica maggiore di Fa, che sono le tre pentatoniche maggiori della scala di Si bemolle, sentite come suona... Grazie a tutti! Grazie a tutti!